Ed eccoci ritornati in studio dal nostro cartello di apertura, avete ben compreso che si tratta di un nuovo appuntamento con Informacia. A tal proposito vi ricordo anche la mail che continuate a avere a disposizione, infochiocciolacicomo.it per tutte le vostre curiosità. Ma passiamo subito al vivo di questo appuntamento e agli ospiti che sono qui questa sera. Io saluto e ringrazio Paolo Sciarra per essere con me in studio, grazie. Grazie a voi della opportunità che ci date di essere qui presenti e saluto tutti gli spettatori. Tra poco avremo moltissimo da chiacchierare ma prima andiamo a salutare anche l'altro ospite che è collegato invece via Skype con noi, naturalmente il direttore di Acicomo, Roberto Conforti. Roberto ben ritrovato, grazie. Grazie a voi per l'invito. Io partirei proprio da lei nel fare un punto su quella che è stata questa quarantesima edizione del rally Acicomo per insomma intanto capire come sono andate al di là dei risultati che conosciamo tutti molto bene, ma che cosa è accaduto e il feedback che avete insomma raccolto da questo evento così straordinario. Sì, è andata molto bene, ritornavamo dopo due anni ad avere validità di WRC, quindi uno dei principali campionati italiani e dal punto di vista sportivo è andata molto bene. C'è stato un colpo di scena iniziale con l'uscita di uno dei tre, dopo tre chilometri praticamente uno dei tre che potevano vincere il campionato è uscito e quindi ci ha comportato già, quindi è partito col botto come si suol dire. Diciamo che la gara poi è ripresa e ha vinto Rossetti che è un campione, uno che ha vinto tante altre gare, quindi diciamo dal punto di vista sportivo tutto bene. Dal punto di vista organizzativo chiaramente è stato per noi molto complesso perché comunque venivano coinvolte diverse attività, avevamo il parco assistenza all'Ariottir, avevamo Piazza Cavour che era stata allestita in modo tale da dare la possibilità ai fotografi di riprendere anche le bellezze di Como, il lago, quindi avevamo fatto un passaggio nuovo e poi c'era il driver come aveva detto l'altra volta che era coinvolto sia venerdì per il riordino, avevamo anche un parco assistenza a Porlezza dove era destinato alle autostoriche e poi le tre prove bellissime, si riprendeva la Varcavagna dopo l'anno scorso che era intitolata a Paolo Brenna, è stata bella perché poi tra l'altro la gara con l'ultima prova è stata assegnata, quindi c'è stato un recupero di Carella e quindi tutto bene, è andata molto bene anche dal punto di vista della comunicazione, c'era come sapete la diretta di AC Sport ma c'era soprattutto, e ringrazio Espansione TV, c'era la diretta di Espansione TV, so che gli ascolti sono stati molto importanti, superiori all'anno scorso, è stata eseguita non solo a Como ma in tutta la regione e anche Oltre, quindi è andata bene, abbiamo dato visibilità all'evento, la piazza era piena, quindi diciamo noi come organizzatori siamo molto soddisfatti. Una conferma anche di quello che dicevamo nello scorso appuntamento, che l'occasione delle varie dirette è anche quella di coinvolgere più pubblico possibile, chi non poteva essere presente comunque non ha perso l'opportunità di seguire il rally, quindi molto bene. Sì sì, benissimo, nel senso avevo amici che mi scrivevano, che mi vedevano, quindi diciamo che è stata seguita, è andata bene, l'obiettivo era proprio quello, dare la possibilità a tutti di seguire le fasi salienti della gara ed è andata bene, noi già siamo proiettati sulla gara dell'anno prossimo, c'è una riunione sabato e quindi già abbiamo dimenticato quello che è stato fatto e siamo già proiettati sul 2022. Naturalmente è conforto, un evento nell'evento perché questa quarantesima edizione, visto anche il rally storico a Cicomo, che poi in qualche maniera ci rimanda all'ospite che invece abbiamo in studio, quindi una pillola di commento e poi andiamo da Sciarra. Noi puntiamo molto sullo storico, sia come rally che come regolarità, puntiamo molto perché, l'abbiamo detto in tante trasmissioni, le auto storiche non sono auto vecchie, le auto vecchie sono una cosa, ci sono quelle che vanno sostituite perché inquinano, le auto storiche sono quelle dei collezionisti, di chi ama la macchina, la macchina che non ha subito modifiche nel tempo e quindi sono di persone che amano la macchina, che sono appassionati e dove c'è passione, dove c'è, noi cerchiamo di supportare e ci sarà, anticipo una novità del prossimo anno, ci sarà un nuovo trofeo classic che ci sarà nel mese di maggio proprio destinato alle auto storiche, una gara di regolarità e che vede coinvolto il nuovo club, quindi anticipo un po' la presentazione, c'è un nuovo club ACI storico a Como e per noi è molto importante perché sono tantissime le persone che hanno un'auto storica, una o più auto storiche, diciamo più perché in realtà ne hanno molti di più, quindi noi cerchiamo di intercettare tutte queste richieste, questa voglia che c'è di sport e quindi portiamo a Como per la prima volta una gara di regolarità di auto storiche. Bene, grazie Conforti e con questo torno da Sciarra, presidente Classic and Sport Cars Club di Como. Intanto voi siete stati ospiti durante questa bellissima manifestazione della quale ci ha parlato Conforti con i numeri e le considerazioni conclusive e quindi avete vissuto parallelamente ogni momento. Ma è interessante quello che dice Conforti perché la passione per l'auto storica è tanta, è così? È così, diciamo io adesso mi riallaccio a quello che ha appena detto il direttore di ACI, perché noi nasciamo proprio come gruppo di appassionati e collezionisti di auto d'epoca. L'auto d'epoca, a differenza dell'auto vecchia giustamente, è un fatto culturale. Certo. Di conservazione di un patrimonio italiano che non ha pari al mondo e che grazie all'opera di appassionati e tutto un mondo di artigianato che gira attorno, quindi una valenza anche economica non indifferente, consente a questo parco storico di sopravvivere agli eventi. Dicevo appassionati e collezionisti ma che portano con sé anche una grandissima professionalità perché provengono dal settore. Io stesso avevo una piccolissima collezione, nulla a che fare con i grandi collezionisti, però proprio perché lì c'è il piacere di andare in giro. Quindi è vero che si hanno più di un'auto in ACU, se si può insomma. Chi può sicuramente. C'è da dire che il costo di uso di queste auto è effettivamente modesto, a parte la manutenzione che lì magari è un po' più complicato. Però sono macchine esentate dal pagamento della tassa di possesso e poi grazie alle convenzioni con ACI e con Sara si possono avere polizze vintage, per cui un'automobile assicurata per la responsabilità civile con poche decine di euro l'anno. Più macchine ancora meno. Quindi diciamo sotto l'aspetto del costo fiscale, fra virgolette, è un'operazione interessante. Poi è anche un investimento, perché soprattutto negli ultimi anni il valore delle auto è cresciuto esponenzialmente. Per alcune ovviamente, quelle che sono iconiche nel loro periodo. Per esempio abbiamo visto dei bellissimi esemplari passare nelle immagini che la regia ci ha mandato. Ci commenta qualcosa? Sì, sì, ben volentieri, proprio perché sono macchine che conosco e che abbiamo vissuto. Allora, per esempio qui c'è il vicepresidente del club, che è con una sua Porsche 2002 del 1970. Questo è il nostro logo, dove abbiamo riassunto con un tratto grafico la strada. Sopra c'è il profilo di una auto iconica, la Porsche 356, con la bandiera italiana e i colori di Como. Questi sono i nostri espositori che abbiamo utilizzato. Ecco, questo invece è un momento ludico, il momento dell'inaugurazione della nostra sede che è avvenuto nel mese di settembre, dove ha visto un bel pubblico, una bella partecipazione e soprattutto questi ragazzi degli anni 70, come amo ancora definirmi, eccoli. Eccoli qua, tutti insieme. Tutti insieme. Questo è il gruppo dirigente che all'epoca magari sognavano di poter guidare certe macchine e poi chi ha potuto fortunatamente nel corso della vita se l'è potuta... Ha potuto farlo in questo senso. Quindi detto questo, perché associarsi anche alla vostra realtà che come ha detto bene poi sviluppa anche dei percorsi fortemente culturali e anche altri eventi collaterali? Perfetto. Allora, per una serie di motivi. Una, la più semplice, forse banale, ma sicuramente la più intensa per i partecipanti è usare le proprie macchine e andare in giro. Per percorsi alternativi alle strade, alle autostrade, sì, qualche galoppata in autostrada nei trasferimenti si può fare, no? Sono macchine anche con una discreta potenza. Ma per visitare luoghi culturalmente interessanti, per mangiare bene assieme in compagnia, in ristoranti individuati, ma anche come attività sociale. Per esempio, la prima manifestazione che abbiamo realizzato è stata adesso recentemente all'Ario Fiere, alla dodicesima mostra scambio organizzata da Angelo Colombo a beneficio dell'associazione sullo studio delle malattie del midollo spinale e quindi gli amici della paraplegia. Abbiamo avuto il nostro primo stand dove era esposta quella splendida Ferrari di cui, di quel colore, di quel modello, ne sono state fatte solamente cinque al mondo. Quindi dei piccoli gioielli da salvaguardare e in alcune occasioni anche da mostrare agli altri. Anche da mostrare agli altri. Soprattutto molto interessante. Eccola qui, questa è una Ferrari Dino, 2002, anch'essa di quell'epoca. Bene, io vi ringrazio molto per questo tuffo nel passato che però è davvero importante mantenere. Vedo che vuole chiudere con qualche cosa ancora, 30 secondi e poi siamo ai saluti. Secondo, ecco, la sede operativa del club è aperta tutti i martedì dalle 21 alle 23 presso un esercizio pubblico di cambiate in via Gramsci 6. Noi siamo lì tutti i martedì per incontrare gli amici, per le iscrizioni, per consultare riviste, proiettare qualcosa e anche questo filmato verrà proiettato sistematicamente. Bene, grazie. Io saluto e ringrazio Paolo Sciarra e naturalmente Roberto Conforti, eccolo ancora collegato. Con Roberto è un arrivederci, ma c'è ancora qualcosa da aggiungere. Vai Roberto! Essere soci ACI è anche questo. Nel senso che far parte della famiglia, uno pensa solo al soccorso. In realtà noi facciamo eventi come parlavamo, rally, facciamo parte del club ACI storico e quindi il socio ha modo di coltivare le proprie passioni tra cui anche l'autostopico. Bene, una postilla doverosa e molto interessante. Grazie, grazie a Roberto Conforti. Nuovamente grazie a Paolo Sciarra. Alla prossima. Grazie anche a voi per essere stati con me. C'è l'informazione e io tornerò domani. In collaborazione con Remax Essenza, il più grande centro di mediazione immobiliare Remax di Como. Le persone sono la nostra forza e il nostro valore. Unisciti a noi. Together is better.